Un tavolo di confronto tra tutti gli attori del territorio che con senso di responsabilità promuovano in modo unitario il rilancio del centro Abruzzo per farsi trovare pronti con progetti e proposte capaci di attrarre investimenti e opportunità di sviluppo, cogliere gli effetti degli epocali cambiamenti economici e sociali che si prospettano a livello nazionale e regionale per la ripartenza dopo l'emergenza con i fondi del recovery plan e risorse europee. E l'iniziativa del sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, che annuncia l'organizzazione ed incontro per rilancio del territorio. Sulmona quindi questa volta vuole iniziare a programmare per tempo e chiede la concertazione territoriale. Il primo incontro è previsto in modalità telematica, già il prossimo martedì 23 febbraio alle 16 si partirà proprio con l'ascolto dei sindacati. Seguiranno dai primi di marzo incontri prima con il mondo dell'industria e via via con gli altri comparti per raccogliere, dice il sindaco, proposte e contributi e definire insieme la piattaforma unitaria per rendere attrattivo il nostro territorio che possa dare impulso al ripopolamento e l'occupazione a una ripresa strutturale del settore socio-economico salvaguardando i servizi esistenti cogliendo le prossime opportunità delle risorse europee che arriveranno.